L'estate addosso con il gruppo Riflessi. Abbigliamento donna dai teenager alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, profumeria fornitissima delle più grandi firme, prodotti artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia, creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Luch Bézier, idee regalo. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno. Via Mattine Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Gruppo Riflessi, l'estate addosso.